Bentornati su Sicilia 24, apriamo questa nuova edizione di Spazio Notizia parlando di Covid. Il Ministero della Salute ha diramato l'ultimo bollettino, sono 2.767 nuovi casi di Covid registrati a fronte di 21.824 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività rispetto a ieri scende al 12,6% con la Sicilia che resta al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 101.002, mentre i guariti sono 4.964. Purtroppo si registrano ancora 5 vittime che portano il totale dei decessi a 10.727 sul fronte ospedaliero. I ricoverati sono 728, 12 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre in terapia intensiva al momento ci sono 32 persone, due in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda le province, Palermo è la provincia con maggiori nuovi casi, 634, poi Messina 611 e Catania con 605. Questi dunque i numeri del coronavirus del bollettino che riguarda la Sicilia di oggi, ma continuiamo a parlare di Covid. Sentiamo le dichiarazioni del ministro Speranza che ha lanciato una sorta di appello agli italiani. La pandemia è ancora in corso, siamo fuori dallo stato di emergenza, ma i numeri ci segnalano ancora una circolazione significativa del virus. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rivolgendosi poi agli italiani. Abbiamo ancora una situazione da monitorare, ha aggiunto, e faccio appello alle persone più fragili di avere il secondo booster. È importante ancora informare le persone. La mortalità che ancora abbiamo è connessa a persone di età molto avanzata, quindi far fare il secondo booster agli over 80 può significare salvare loro la vita. Oggi, ha affermato ancora Speranza, abbiamo strumenti diversi e nuovi come farmaci antivirali e vaccini, ma la comunicazione continua ad avere un ruolo fondamentale. La guerra, ha osservato il ministro, ha sostituito la pandemia totalmente, quasi, da un giorno all'altro. Lo dico col massimo del rispetto, ma in realtà nella vita della nostra società la guerra e le sue conseguenze si sono aggiunte ma non hanno sostituito la pandemia. Questo produce una maggiore difficoltà a lanciare messaggi, invece abbiamo ancora persone che purtroppo perdono la vita a causa del Covid. E ora parliamo di sport, nello specifico della Giro d'Italia, la bellissima tappa di oggi, la Catania Messina. La seconda in Sicilia si è conclusa con la vittoria della francese Demar. Il transalpino ha preceduto Gaviria e Nizzolo, mentre per quanto riguarda la classifica generale resta tutto invariato con lo spagnolo López Pérez che conserva la maglia rosa. Ma al termine della gara è arrivato un annuncio a sorpresa, chiamiamolo così, da parte di Nibali che ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione. Questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia, dichiarato, e a fine stagione finirà la mia carriera. Aspettavo questa tappa da qualche anno proprio nella terra dove sono nato e ho iniziato a pedalare. Volevo annunciare che questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia e che probabilmente mi ritirerò a fine anno. Ho raccolto davvero tantissimo nella mia carriera, dichiarato ai microfoni di Rai Sport, ho cercato di fare il meglio fino ad ora. Sono emozionato, qui è iniziata la mia storia con le prime corse in Sicilia che poi ho lasciato a 15 anni. Ho dato tantissimo al ciclismo e forse è arrivato il momento di poter restituire un po' quello che ho sottratto alla famiglia, agli amici e a tutto quello che ho sacrificato per le due ruote. Quindi Nibali sembra intenzionato a ritirarsi a fine stagione, dunque questo potrebbe essere il suo ultimo Giro d'Italia. La storia dello sport è pieno di sportivi che avevano annunciato il ritiro, salvo poi ripensarci. Quindi chissà che lo squalo alla fine non decide di andare avanti, ma per il momento ha annunciato questa possibilità di ritiro, dunque sta facendo questa riflessione. Noi ovviamente ci auguriamo che non sia così, visto lo spessore dell'atleta siciliano. E a proposito di Sicilia e sport parliamo adesso del Palermo Calcio che domani alla Barbera giocherà il ritorno del playoff di Serie C contro la Triestina. L'andata è finita 2-1 a Trieste, stamane alla vigilia del match ha parlato Mr Baldini. Speravamo di riuscire un giorno a vedere lo stadio come lo abbiamo visto con la Nazionale, ha dichiarato. Avremo la fortuna di vivere questa emozione e questo è il massimo per noi. Uno stadio pieno è un regalo che ti fa il calcio. I ragazzi devono goderselo, ha dichiarato il Mr Rosanero in attesa dunque della sfida di domani contro la Triestina. Lo ricordiamo, il ritorno del primo turno playoff si parte dal 2-1 dell'andata per il Palermo. E adesso cambiamo argomento, parliamo dell'isola di Vulcano. Si è tenuta una riunione per attuare gli interventi di prevenzione e monitoraggio dei gas nocivi sull'isola di Vulcano. Ovviamente ha partecipato anche la Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che poi ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito alla questione. Sentiamolo. I valori delle emissioni nocive negli ultimi due mesi risultano stabili ma sempre anomali. La situazione non è peggiorata, tuttavia non bisogna abbassare l'attenzione, soprattutto in previsione dell'avvio della stagione estiva. E' questo il risultato della riunione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, chiamato ad attuare gli interventi di prevenzione e monitoraggio dei gas nocivi sull'isola di Vulcano, nelle Olie. All'incontro, in videocollegamento, tra gli altri, hanno partecipato anche il dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, Salvo Cocina, il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni e il vice prefetto di Messina, Francesco Miglio. I tecnici ci dicono che la situazione è stazionaria, ha affermato il Presidente Nello Musumeci, ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di emergenza, nel caso in cui i valori dovessero tornare a salire, come avvenuto nel periodo di maggiore crisi. Dobbiamo rendere l'isola fruibile dal punto di vista della sicurezza. Chiederò al Ministro dell'Interno e al Prefetto di Messina la possibilità di predisporre un adeguato presidio di uomini in divisa che siano da deterrente nei confronti di coloro che si avvicinano alle zone interdette, soprattutto per l'estate. Nel frattempo la protezione civile regionale ha provveduto a collocare la segnaletica necessaria e quella nazionale a organizzare un'esercitazione con le prove di evacuazione dell'isola che hanno visto il fattivo coinvolgimento della popolazione e dei volontari. Alla luce dell'attuale situazione, nelle nuove ordinanze che il sindaco di Lipari si appresta a varare, continuano a restare precluse le aree limitrofe al cratere, al laghetto naturale dei fanghi termali e alla spiaggia dei Faraglioni, dove l'attività dei fumaroli è ancora intensa. Saranno invece alleggerite le misure nell'area delle cosiddette case Lombardo. E ora parliamo di truffe online. A Catania la polizia ha denunciato una donna. La polizia di Stato ha denunciato una sessantenne per truffa, vittima del raggiro una donna di 40 anni, la quale, dopo aver messo in vendita su un sito online degli ammortizzatori per auto, è stata contattata telefonicamente da una potenziale acquirente. La malcapitata venditrice però è stata raggirata. Seguendo le istruzioni della malvivente, si è recata con la propria carta al Bancomat per ricevere l'accredito del prezzo pattuito per la compravendita. Nello specifico, la falsa acquirente aveva indicato alla donna un codice da digitare, riuscendo in tal modo a sottrarre dalla carta Bancomat della quarantenne la somma di 1000 euro. Una volta resasi conto di essere stata truffata, la vittima si è recata presso il commissariato Borgognina per sporgere denuncia. Le indagini, avviate dai poliziotti del predetto commissariato, attraverso l'analisi dei flussi bancari, hanno consentito di risalire all'identità della truffatrice, già nota alle forze dell'ordine per le molteplici truffe perpetrate con lo stesso modus operandi e pertanto a denunciarla in stato di libertà per truffa. E questa mattina a Palermo uno zaino abbandonato ha fatto scattare l'allarme bomba nei pressi del Teatro Massimo, quindi in pieno centro storico, tra l'altro era pieno zeppo di turisti e studenti. Sul posto sono intervenute le unità cinofile, gli artificieri della Polizia di Stato, che dopo aver messo in sicurezza lo zaino lo hanno fatto brillare. Sul posto anche i carabinieri, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco. E sempre a Palermo due palermitani sono finiti in carcere per rapina. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. I carabinieri della stazione Palermo Centro, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Palermo, hanno tratto in arresto due palermitani di 49 e 41 anni, accusati del reato di rapina aggravata. Le indagini svolte dai militari della stazione, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, ritenuti responsabili di ben quattro rapine, commesse tra luglio e dicembre 2021, in danno di altrettante farmacie del centro cittadino. Risultato dei colpi eseguiti tramite minaccia ai dipendenti e alcune volte servendosi di un coltello, è stata la sottrazione di parte degli incassi pari a circa 1.000 euro complessivi e in una circostanza lo smartphone di una dipendente. Fondamentale per la ricostruzione dei fatti e lo sviluppo dell'indagine è stata l'analisi delle immagini registrate dagli apparati di videosorveglianza, che hanno consentito di rilevare alcuni dettagli fisici e dell'abbigliamento utili all'identificazione dei presunti responsabili. Il 49enne e il 41enne, come disposto dal GIP, sono stati associati presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli di Palermo. Rapina anche a San Giovanni Lapunta nel Catanese. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Grevina di Catania hanno arrestato due uomini di 39 e 56 anni e una donna di 52, questi ultimi rispettivamente fratello e sorella, tutti i diaci Sant'Antonio per il reato di rapina a mano armata. A seguito dell'acquisizione di notizie di carattere info-investigativo, i militari avevano appreso che i tre, a bordo di una Fiat Punto Bianca, sarebbero stati soliti compiere rapine ai danni di esercizi commerciali nell'Interland pedemontano del capoluogo. Nel pomeriggio di ieri, infatti, la centrale operativa è stata notiziata dell'avvenuta rapina ai danni di un esercizio commerciale in via Etna di San Giovanni-La Punta, consentendo così l'immediata attivazione delle pattuglie dislocate sul territorio, che hanno intercettato la vettura con i tre malviventi a bordo vicino al luogo della rapina, sbarrandole poi la strada in via Ficarazzi di Catania, nei pressi della piazza Santa Maria di Gesù. I tre sono stati immediatamente bloccati e avrebbero subito ammesso le loro responsabilità, quindi, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di una pistola, rivelatasi un'arma a giocattolo, non chiede la somma di 250 euro, provento della rapina appena perpetrata a San Giovanni-La Punta. Immediatamente sono stati acquisiti i filmati dell'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale rapinato, la cui disamina ha evidenziato come i tre avessero dapprima effettuato un sopralluogo, e poi, mentre fratello e sorella rimanevano in auto per non destare sospetto, come se si trattasse di una normale famiglia, Il terzo aveva fatto il suo ingresso all'interno dell'esercizio commerciale, puntando l'arma verso l'impiegata e fuggendo dopo aver arraffato il denaro contenuto nella cassa. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto dei tre, disponendo per la donna la sottoposizione agli arresti domiciliari, nonché la permanenza in custodia cautelare presso il carcere di Enna per i suoi due complici. A Siracusa sono stati effettuati tre furti in una sola notte. Nel mirino due bar e un negozio di articoli per l'infanzia. In due casi i ladri hanno agito con il metodo della spaccata, lanciando uno scooter a forte velocità contro le vetrine per mandarle in frantumi. Sui tre episodi indaga la polizia che sta visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ancora da quantificare il bottino dei tre furti. E sempre a Siracusa due operai sono rimasti ustionati in modo fortunatamente non grave, un terzo è rimasto contuso dopo l'incidente avvenuto all'interno della raffineria ISAB nella zona industriale siracusana. In particolare si sarebbe trattato di un fenomeno di fumosità generato da una pompa di fondo colonna. Gli operai sono stati trasferiti all'ospedale Umberto I, mentre non si sono registrate criticità per quanto riguarda l'impianto, ovvero, come detto, la raffineria ISAB nella zona industriale di Siracusa. E possiamo chiudere, non ci sono aggiornamenti, dunque ci vediamo più tardi, sempre su Sicilia 24, vi aspettiamo, a dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.